Salve, sono Emilio Ziccarelli. Ho cominciato ad andare in bicicletta poco meno di due anni fa. Inizialmente giusto per divertirmi, fare qualche uscita, insomma per passare un po' il tempo. Dopo un po' di tempo ho conosciuto diverse persone, amici, che mi hanno spinto ad allenarmi con un obiettivo che comunque era insito in me, ovvero quello di fare gare e cercare di vincerle. Per questo motivo sono entrato a far parte di questo progetto molto importante e molto valido che secondo me può portare a grandi risultati. Per questo motivo ho intenzione di allenarmi e di dare il massimo per dare un sostegno alla mia squadra e appunto per cercare di vincere qualche gara. Grazie. 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 Grazie.